Il generale Khalifa Haftar ha lasciato Mosca senza aver firmato l'accordo di cessata il fuoco con il governo di accordo nazionale guidato da Fayez al-Serraj. Haftar aveva chiesto una notte di tempo per pensare al testo dell'intesa, ma poi deciso di non aderirvi. Secondo Al Arabiya, emittente televisiva degli Emirati Arabi Uniti, il politico avrebbe affermato che il documento ignorava molte richieste dell'esercito nazionale libico. Immediata la reazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha promesso di infliggere una lezione al generale Khalifa Haftar se dovesse riprendere i suoi attacchi. Intanto, la conferenza di Berlino sulla Libia dovrebbe essere stata fissata per il 19 febbraio, come comunicato ufficiosamente dalla Germania ai paesi partecipanti, tra cui l'Italia. Alcuni scienziati hanno scoperto una possibile connessione tra un batterio dell'intestino, escherichia coli, e l'infarto. Tale batterio, infatti, è risultato essere in circolo nel sangue dei pazienti ed essere presente nell'arteria ostruita che causa l'attacco di cuore. Questa scoperta potrebbe portare allo sviluppo di farmaci per l'infarto e di un vaccino preventivo per l'individuo a rischio. La ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati sullo European Art Journal, è stata condotta su 150 persone ed è stata guidata da Francesco Violi, direttore della prima clinica medica del Policlinico Universitario Umberto I. In un anno, oltre 1,2 milioni di persone hanno trovato la morte in incidenti stradali e 54 milioni sono rimaste ferite. Questi drammatici dati relativi al 2017 raccolti dall'Institute for Health Matrix and Evaluation, l'istituto di ricerca dell'Università di Washington a Seattle. Dal report emerge che il tasso globale di incidenti per tutte le età è cresciuto di oltre il 15% nel periodo compreso tra il 1990 e il 2017. In generale, gli infortuni stradali sono diventati più frequenti ma meno mortali, grazie ad una serie di fattori, tra cui una maggiore sicurezza dei veicoli e delle strade, la corretta applicazione delle leggi sulla velocità, le cinture e l'alcol, ha osservato l'autore senior dello studio Spencer James. La fascia più a rischio è quella degli uomini dai 25 ai 29 anni, gruppo in cui gli incidenti sono due volte più frequenti rispetto alle donne della stessa età. Il paese che ha avuto il maggior numero di morti su strada è stata la Cina, con oltre 261 mila decessi. Dal giorno della sua prima apparizione, il 9 gennaio 2017, quando fu Steve Jobs a svelarlo al mondo, l'iPhone è arrivato a un passo dal raggiungere la cifra di 2 miliardi di unità vendute. A riferirlo è Bloomberg in base alle previsioni formulate da alcuni analisti in occasione dei 13 anni dello smartphone che ha cambiato lo standard del telefono. Il traguardo del primo miliardo di unità era stato annunciato dal CEO di Apple, Tim Cook, nel luglio del 2016. In base alle previsioni nell'esercizio fiscale 2020, la casa della Mela dovrebbe arrivare a vendere 195 milioni di iPhone più dei 186 milioni dell'anno precedente. Il numero di melafonini commercializzati durante questo esercizio sarebbe inferiore rispetto a quelli registrati nel 2015, 2016, 2017 e 2018. Nonostante ciò, per Apple, la previsione di ricavi è da record grazie ad un modello di business che punta maggiormente sui servizi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.